Commosso, onorato, grato. Il vice capo del dipartimento di amministrazione penitenziaria Roberto Tartaglia arriva per la prima volta a Cosenza per ricordare il direttore del carcere Sergio Cosmai ucciso dall'Andrangheta nel 1985. L'ex PM del processo sulla guata Piersanti Mattarella, poi di quello sulla trattativa Stato-Mafia, vuole che questa visita sia un segno di vicinanza alla Calabria e a chi ogni giorno lavora per una giustizia forte ed equa, partendo proprio dalla memoria di chi ha pagato con il sacrificio della vita il proprio impegno. Io ho voluto ricordare oltre al direttore Cosmai che è venuto qui nel pieno della guerra di mafia, sapendo di affrontare dei rischi veramente molto significativi, anche il maresciallo capo degli agenti di custodia dell'epoca, Filippo Salsone, che è stato il suo braccio destro qui nell'istituto di Cosenza e che poi sarà ucciso a un anno di distanza dal direttore Cosmai, anche per dimostrare quanto le varie anime belle di questa amministrazione, quando agiscono in maniera convergente, sinergica, possono davvero portare a dei risultati importantissimi. Nel pieno delle polemiche nate dalle dichiarazioni del neo capo del DAP Carlo Renoldi, che parlando di un possibile allentamento del regime di carcere duro aveva criticato il culto dei martiri, il gesto del suo vice tartaglia è in controtendenza. Tengo completamente da parte le polemiche. Per me, da cittadino italiano, da magistrato della Repubblica Italiana, in questo momento da vice capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il ricordo e la memoria di chi ha dato la vita per le istituzioni è un valore imprescindibile.